La felicità è un concetto complesso e soggettivo che può essere interpretato in modi diversi da persona a persona. In generale, la felicità può essere definita come uno stato di benessere soggettivo e di soddisfazione interiore, caratterizzato da emozioni positive come la gioia, la serenità e la gratitudine. È una sensazione di appagamento e di contentezza che deriva da diverse fonti, sia interne che esterne. La felicità può essere considerata una combinazione di diversi elementi. Uno di questi è il benessere materiale, che si riferisce al raggiungimento di obiettivi finanziari, materiali o di sicurezza. Questo può includere il possesso di beni materiali, il raggiungimento di una stabilità economica o la soddisfazione dei bisogni di base. Tuttavia, la felicità non si riduce esclusivamente al benessere materiale. È anche influenzata da fattori psicologici, come il senso di realizzazione personale, l'autostima, la gratitudine e la capacità di gestire le emozioni e le sfide della vita. La felicità può essere profondamente radicata nelle relazioni interpersonali e nelle connessioni sociali significative. Il sostegno emotivo e l'amore che provengono da amici, familiari o partner possono contribuire in modo significativo al nostro benessere e alla nostra felicità. La ricerca scientifica ha dimostrato che la felicità è anche influenzata da fattori genetici ed ereditari, il che significa che alcune persone potrebbero avere una predisposizione innata a essere più felici rispetto ad altre. Tuttavia, il modo in cui viviamo e le nostre scelte di vita possono influenzare in modo significativo il nostro livello di felicità. È importante sottolineare che la felicità non è uno stato permanente o costante. La vita è fatta di alti e bassi, e sperimentiamo una gamma di emozioni che includono gioia, tristezza, frustrazione, ecc. La felicità non significa necessariamente evitare le emozioni negative, ma piuttosto essere in grado di affrontarle e trovare un equilibrio emotivo. Padre Pio, noto anche come San Pio da Pietrelcina, è stato un frate francescano italiano che ha vissuto nel ventesimo secolo. La sua vita è stata caratterizzata da una profonda spiritualità e devozione verso Dio, nonché da straordinari doni mistici come la stigmatizzazione, la levitazione e la capacità di leggere nei cuori delle persone. Padre Pio è diventato un'icona di speranza e fede per molte persone in tutto il mondo. Uno degli insegnamenti più importanti che possiamo trarre dalla vita di Padre Pio riguarda la ricerca della felicità. Nonostante le difficoltà che ha affrontato nel corso della sua vita, Padre Pio ha mantenuto una gioia interiore che ha ispirato e illuminato la vita di coloro che lo hanno conosciuto. Ecco alcune lezioni che possiamo imparare da Lui per raggiungere una felicità duratura. Innanzitutto, Padre Pio ci insegna l'importanza di una profonda relazione con Dio. Per Lui, la felicità non derivava da circostanze esterne o materiali, ma dalla presenza e dall'avvicinanza di Dio nella sua vita. Passava molte ore in preghiera, meditando sulla parola di Dio e cercando di vivere secondo i Suoi comandamenti. La preghiera costante e l'intimità con Dio gli hanno dato una pace interiore che nessuna situazione esterna avrebbe potuto scalfire. Padre Pio ci invita a fare lo stesso, a coltivare una relazione personale con Dio attraverso la preghiera, la meditazione e la lettura spirituale, in modo da trovare la felicità che deriva dalla sua presenza nella nostra vita. Inoltre, Padre Pio ci ricorda l'importanza della fiducia in Dio anche nelle circostanze difficili. Ha affrontato molte prove e sofferenze, sia fisiche che spirituali, ma ha sempre mantenuto una fiducia incrollabile nell'amore e nella provvidenza di Dio. Ha insegnato che anche nelle situazioni più oscure, possiamo trovare consolazione e speranza nella certezza che Dio è con noi e che il suo amore è più forte delle nostre difficoltà. Questa fiducia incondizionata in Dio ci libera dall'ansia e dalla paura, permettendoci di vivere con gioia anche di fronte alle avversità. Padre Pio ci invita anche a praticare la carità verso il prossimo come mezzo per raggiungere la felicità. Era noto per la sua dedizione nell'aiutare gli altri, sia materialmente che spiritualmente. Trascorreva ore a consolare e a consigliare le persone, ascoltando le loro preoccupazioni e offrendo loro la speranza di Dio. Questo atteggiamento di amore e compassione verso gli altri era una fonte di grande gioia per lui. Ciò ci ricorda che la felicità autentica non può essere raggiunta solo per se stessi, ma anche attraverso l'aiuto e il sostegno agli altri. Quando ci impegniamo a rendere la vita degli altri migliore, troviamo un senso più profondo di soddisfazione e gioia. Un altro aspetto fondamentale per essere sempre felici, secondo Padre Pio, è la pratica della gratitudine. Egli ci ha insegnato che anche nelle piccole cose della vita possiamo trovare motivi per ringraziare Dio. La gratitudine ci aiuta a focalizzarci sulle benedizioni che abbiamo, anziché concentrarci sulle mancanze o sulle difficoltà. Padre Pio era profondamente grato per ogni dono di Dio, anche nelle situazioni più semplici e quotidiane. Ci invita a sviluppare la consapevolezza delle tante grazie che riceviamo ogni giorno e ad esprimere gratitudine per esse. Questa pratica di gratitudine ci permette di sperimentare una gioia costante e di apprezzare la bellezza della vita. Inoltre, Padre Pio ci incoraggia a perseguire la santità personale come mezzo per raggiungere la felicità. Egli credeva che la felicità più profonda si trovi nell'allineare la nostra vita con la volontà di Dio e nel cercare di vivere una vita santa. La santità non è riservata solo a poche persone eccezionali, ma è un cammino aperto a tutti. Ci invita a lavorare costantemente per crescere nella virtù, superare i nostri difetti e vivere in accordo con l'amore di Dio. La ricerca della santità ci porta a vivere una vita più piena e significativa, e ci avvicina alla vera felicità. Infine, Padre Pio ci insegna a trovare gioia nel servizio agli altri. Egli dedicava la sua vita per il bene degli altri, offrendo conforto spirituale e cure fisiche a coloro che ne avevano bisogno. Ci ricorda che quando ci prendiamo cura degli altri e ci mettiamo al loro servizio, scopriamo una gioia che va oltre la soddisfazione personale. Padre Pio ci sfida a superare l'egoismo e ad aprire i nostri cuori verso gli altri, riconoscendo che la vera felicità si trova nel dare, nell'amare e nel servire gli altri. In conclusione, la vita di Padre Pio ci offre preziosi insegnamenti su come raggiungere la felicità duratura. Attraverso una relazione profonda con Dio, la fiducia incondizionata in Lui, la pratica della carità verso il prossimo, la gratitudine, la ricerca della santità e il servizio agli altri, possiamo imparare a vivere una vita piena di gioia e significato. Seguire gli insegnamenti di Padre Pio ci aiuta a scoprire che la vera felicità non dipende dalle circostanze esterne, ma è una gioia interiore che nasce dalla nostra relazione con Dio e dal modo in cui viviamo la nostra vita al servizio degli altri. Padre Pio ci ricorda che la felicità non è un obiettivo che si raggiunge una volta per tutte, ma è un viaggio continuo. Richiede un impegno costante e una scelta consapevole di vivere secondo principi spirituali ed ecci. Nonostante le sfide e le avversità che possono attraversare la nostra vita, possiamo trovare la felicità quando siamo radicati in una fede solida, quando ci prendiamo cura degli altri e quando coltiviamo una mentalità di gratitudine. Tuttavia, è importante sottolineare che la felicità non significa ignorare o negare le emozioni negative o le difficoltà che affrontiamo. Padre Pio stesso ha sperimentato molte prove e sofferenze nel corso della sua vita. È importante riconoscere e affrontare queste emozioni e sfide in modo sano e equilibrato. La felicità autentica non esclude la tristezza o il dolore, ma si radica nella nostra capacità di trovare senso e speranza anche nelle situazioni più difficili. Inoltre, Padre Pio ci invita a trovare la felicità nella semplicità della vita quotidiana. Spesso, cerchiamo la felicità in cose materiali o nell'ottenimento di successo esterno, ma queste fonti di felicità sono temporanee e insoddisfacenti a lungo termine. Padre Pio ci ricorda che la vera felicità risiede nella gioia di vivere nel presente, di apprezzare le piccole cose della vita, di ammirare la natura, di condividere momenti speciali con le persone a cui vogliamo bene. È nel qui e ora che possiamo trovare la gioia autentica e duratura. Infine, Padre Pio ci insegna che la felicità non è un'esperienza egoistica, ma è connessa al benessere degli altri e alla ricerca del bene comune. Vivere una vita centrata su se stessi e sul proprio egoismo porta solo a un senso di vuoto e insoddisfazione. Invece, quando ci preoccupiamo degli altri e cerchiamo di aiutarli, di condividere il nostro amore e le nostre risorse con il prossimo, contribuiamo a costruire una società migliore e ci arricchiamo interiormente. La felicità viene moltiplicata quando la condividiamo con gli altri. In conclusione, la vita e gli insegnamenti di Padre Pio ci offrono preziose lezioni su come raggiungere la felicità duratura. Attraverso una profonda relazione con Dio, la fiducia incondizionata, il servizio altruistico, la gratitudine e la ricerca del bene comune, possiamo scoprire una gioia autentica che supera le circostanze esterne e si radica nella nostra anima. Padre Pio ci sfida a vivere una vita di fede, amore e compassione, trovando la felicità nel dare e nel servire gli altri. Seguire i suoi insegnamenti ci guiderà sulla strada verso una felicità più profonda e duratura.